Salve a tutti, in questo video desidero proporre lo svolgimento di un'unità didattica di apprendimento relativa alla mia classe di concorso quindi relativa al calcolo e alla trattazione del momento quindi scriviamo UDA sì, UDA, però è sempre una lezione relativa a un argomento quindi allo svolgimento di un argomento secondo i vecchi programmi ministeriali e alle nuove indicazioni nazionali relative alla mia CDC che è la A042 Meccanica e Tecnologia Meccanica essenzialmente è una classe di concorso che sta all'istituto tecnico a indirizzo meccanico ed è sul momento torcente quindi è un argomento abbastanza, in questo caso, non molto grande allora sicuramente voglio cercare di generalizzare il tutto perché ovviamente ci sono tantissime classi di concorso e quindi in linea di massima si può fare una menzione alle conoscenze alle abilità e alle competenze sentite, io per sicurezza qui metto parte prima perché non so se con un video riesco a fare tutto perché ecco a seconda cioè io adesso voglio trattare questo argomento però lo voglio generalizzare affinché esso possa essere declinato oppure per altre classi di concorso allora sicuramente sto parlando di un concetto anche fisico e allora tra le conoscenze vi sono le grandezze fisiche con relative unità dimensionali quindi grandezze fisiche mettiamo unità di misura sono in live quindi è come se stessi svolgendo la prova in questo istante quindi unità di misura ovviamente dove nel sistema internazionale al massimo per la mia classi di concorso è importante anche il sistema tecnico quindi sistema tecnico sistema internazionale sistema tecnico ovviamente le unità di misura ad esempio nel sistema internazionale sappiamo che per la lunghezza è in metro il tempo in secondi e così via quindi la forza newton eccetera 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 sappiamo benissimo che noi usiamo anche newton su millimetro quadrato quello non è un per indicare sigma noi spesso usiamo il newton su millimetro quadrato o il mega pascal, i pascal eccetera eccetera questa non è un'unità di misura del sistema internazionale però è un'unità di misura ampiamente usata quindi nel nostro caso sicuramente sono importanti anche unità di misura che non sono appartenenti al sistema internazionale ossia ci sono dei multipli o dei sottomultipli o addirittura si usa dato che è una pressione si usa il pascale e mega pascal pascale in realtà è del sistema internazionale però voglio dire ovviamente uscirse qualcosa del genere ad esempio in una trattazione di fisica relativa al lavoro che sappiamo essere il prodotto scalare della forza per lo spostamento la forza non è nient'altro che il chilogrammo per l'accelerazione per metro al secondo mettiamo la meno due lo spostamento si moltiplica per metri e da qui viene fuori la grandezza del joule quindi già vediamo come se la domanda viene fatta alla classe di concorso di fisica piuttosto che alla classe di concorso di meccanica probabilmente sulle conoscenze ci sono leggeri differenze anche qui conoscere le proprietà meccaniche dei materiali o almeno dei materiali principali quindi proprietà meccaniche dei materiali perché la risposta ad un momento torcente ovviamente dipende sicuramente anche dal tipo di materiale a cui viene sottoposto a questa sollecitazione che cosa provoca una sollecitazione a torsione quindi qui poi vi potete sbizzarrire e mettere tutte le vostre conoscenze per le abilità io penserei a sapere eseguire quindi eseguire esercizi di varia natura tenendo conto delle grandezze fisiche delle loro unità di misura quindi eseguire esercizi di varia natura essere in grado di operare con multipli e sottomultipli risolvere i problemi di calcolo e verifica torsionale quindi calcolo e anche importantissimo la verifica torsionale tra le competenze vado qui risolvere problemi di varia tipologia quindi risolvere problemi qua sintetizzo sapere eventualmente utilizzando il manuale di meccanica quindi sapere anche utilizzare il manuale saper scegliere quindi in una fase di progettazione il materiale più idoneo scelta del materiale leggendo andando a leggere varie proprietà meccaniche scelta degli strumenti di calcolo descrivere descrizione quindi osservazione di fenomeni appartenenti alla realtà ce lo chiedono sempre di coniugare insomma la parte teoria o la parte concreta quindi descrizione osservazione fenomeni reali questo è anche un video di risposta ad una specifica classe di concorso che mi aveva chiesto di fare questo video essere in grado di mettere in atto le metodologie acquisite quindi per fare che cosa essenzialmente analizzare valutare confrontare che cosa fenomeni di sollecitazione torsionale non ho scelto la prova di trazione per fare questo esempio perché sarebbe stato molto più lungo quindi ho volutamente scelto una una tematica sicuramente molto più più rapida e sto cercando ovviamente di generalizzare per rendere il video utile e fruibile da parte di tutti quindi sicuramente c'è una fase introduttiva nella progettazione di questa unità di apprendimento quindi dopo un'eventuale verifica dei prerequisiti e quindi l'eventuale recupero quindi ci può essere una prima fase di stabilire i prerequisiti e fare una verifica per capire qual è la situazione della classe e eventualmente prevedere un recupero per avere i requisiti necessari quindi in questo caso io introdurrei il concetto di torsione ricorrendo ad alcuni esempi tratti dalla vita quotidiana e anche all'inizio esempi di facile comprensione a tutti quindi comincerei a introdurre il concetto sicuramente con esempi quali il verricello di sollevamento verricello aprire il tappo di una bottiglia fare molti studenti insomma della nostra classe di concorso sono appassionati di automobili e quindi perché no dire le automobili si muovono anche grazie al momento torcente prodotto sull'albero motore quindi momento torcente prodotto sull'albero motore cambio inserisco una nuova diapositiva ne ho bisogno cancello ok andando avanti deve prendere poi piede lo svolgimento vero e proprio della lezione vediamo quanti minuti sono passati perché forse ecco già 11 minuti dico altre 4 cose e poi mi fermo eventualmente faccio un secondo video quindi abbiamo detto abbiamo parlato dei prerequisiti prerequisiti ovviamente non prendete in esame il tempo del video perché lo so che voi che dovrete rispondere alle domande della prova scritta magari non avete tanto tempo però io sto anche illustrando e sto anche cercando in tempo reale di generalizzare l'argomento vabbè per quello per quanto riguarda l'esempio che sto facendo i prerequisiti sono almeno conoscere che cosa sono le deformazioni la legge di Hooke cos'è un momento quindi anche le unità di misura ovviamente una coppia di forze lo sforzo di taglio il coefficiente di Poisson il momento di inerzia polare bene facciamo così siccome adesso sarò costretto ad addentrarmi su questioni un pochettino più specifiche e tecniche io chiudo qui la prima parte del video e a breve seguirà la seconda parte io vi ringrazio ringrazio tutti per i commenti per quelli che stanno condividendo il materiale che mi stanno sostenendo e insomma ci sentiamo a breve penso di essere riuscito a rispondere un pochettino a tutti i commenti che mi sono arrivati che mi sono arrivati a